Sì, guardi queste sono misure che verranno prese nelle sedi opportune, non è stato questo argomento del colloquio e comunque sia è un tema certamente all'ordine del giorno quello della posizione presa dall'Austria in merito al tetto alle domande d'asilo quindi credo che l'Europa e le istituzioni europee non possono fare altro che ribadire quali sono i principi e quali sono le regole le regole non prevedono un tetto al diritto d'asilo e quindi questo dovrà essere penso riaffermato anche perché una misura di questo genere poi ha delle ricadute su tutti i paesi e questo quanto accade anche alla frontiera oggi tra la Grecia e la Macedonia è conseguenza di quanto accade sopra in Austria perché se lì c'è una chiusura con delle quote giornaliere è chiaro che poi c'è una ricaduta su tutti gli altri paesi gli stati membri devono riuscire a gestire questo fenomeno in modo organizzato lo devono fare nello spirito di collaborazione che dovrebbe esistere tra stati e nel rispetto del diritto internazionale non è possibile che una situazione come questa possa mettere i paesi dell'Unione Europea in questa difficoltà allora che cosa si deve dire di paesi dove ci sono milioni di rifugiati non è possibile che 28 stati dell'Unione Europea non riescano a gestire un flusso che è sì consistente ma è assolutamente gestibile lo scorso anno sono arrivati circa un milione di richiedenti asilo questa gran parte di queste persone sono in Germania e quindi c'è una crisi dei rifugiati ma se tutti i 28 stati membri avessero fatto la loro parte non ci sarebbe nessuna crisi quindi il problema c'è non perché arrivano i rifugiati il problema c'è perché gli stati membri non fanno il loro dovere non rispettano anche l'agenda dell'immigrazione proposta alla Commissione Europea quell'agenda che prevede la ricollocazione, la relocation tra i vari stati membri anche il Presidente Juncker su questo ha espresso la delusione sul fatto che gli stati membri non diano seguito a quanto proposto dalla Commissione Europea perché se questo accadesse non ci sarebbe nessuna crisi un milione di persone in un continente di 500 milioni non può rappresentare una crisi se c'è una crisi è perché gli stati membri vogliono soffrire dei vantaggi dello stare in Europa ma non vogliono assumersi tutti le proprie responsabilità oggi la cosiddetta crisi dei rifugiati è sulle spalle di 4-5 paesi la Grecia e l'Italia come punti di entrata e poi la Germania, la Svezia e pochi altri paesi se fosse invece condivisa noi gestiremmo nel rispetto dei principi che ci siamo dati e che sono nei nostri stessi trattati una situazione gestibile